tronco da quel ceppo tagliato che a volte lo si vede fare in coppa e poi aiuto ciao ragazzi siamo tornati aurelio al beyond is back val di sole campionati del mondo UCI di mountain bike il cross country l'avete visto in POV adesso un po' in stile wind tv andiamo a farvi il track preview della downhill seguiteci black snake la disesa più famosa di tutta la coppa del mondo e del mondial da tutto il mondo perché? perché è molto ripida è piena di radici sassi e salti difficilissima tecnicissima è chiusa perché la pista si può fare solo se accreditati noi l'accredito ce l'abbiamo fallo vedere e quindi scendiamo a piedi però drop in questo è il gate di partenza qui ci sarà appunto il tempo qui partirà il tempo le prime curve le hanno sceipate molto bene quando ci ho girato io in bici erano un po' più scassate infatti la pista è fresca fresca per la gara si inizia morbidi un sinistra destra cattivo con un road gap e poi il bosco è là in fondo camminiamo andiamo fico fare il track walk come i veri piloti in genere giro sempre alla cieca che è una cosa bella ma anche un pochettino scary cioè te la strizzi un po' quindi prime due curve sceipate benissimo c'è una terra che sembra super cross e si va al primo road gap che per chi lo facesse la prima volta un pochettino comunque stringi un pochettino tutto no? per darvi un'idea della dimensione della road gap tu allontaniti un pochettino cioè questo sono io che sono alto 2 metri e 10 con la mano sarò 3 metri e 60 cioè si sgappa tutta la strada però con le bici moderne l'anno scorso ci ho girato con la e-bike con la sam square e con un landing bello pulito si va via a canna è impressionante vedere che lavoro è stato fatto al tracciato prima della gara è vero che gireranno prima a piedi e poi appunto in bici ci sono tanti piloti tante prove quindi lo scasseranno di brutto però l'hanno lavorato tantissimo un applauso ai ragazzi di val di sole bike land perché la pista di cross country fa paura e la dh fino adesso siamo appena partiti ma sembra scippata alla grandissima là c'era l'osteria del curvone e l'hanno tolta l'osteria però comunque c'è una bella sponda che spara qui abbiamo visto l'ingressino se non ricordo male e dovrò ricordarmelo visto che siamo appunto in diretta domenica su Red Bull TV c'è chi copia e chi salta perché a volte tenere bassa la bici serve stiamo per finire la parte supercross quindi quella tutta in bolla battuta e lisciata lì c'è uno shoes che ti spara dentro qua a destra a mille all'ora e da là si entra nel bosco è praticamente fino al final jump dove c'è quel drop gigante dove poi 6.000 si era sbriciolato sul sinistra di largo battuto e piste da supercross non c'è niente è tutto real mountain bike un po' back to 90's con questa roba ripidissima tutta anni 90 stilosissima c'è subito un droppettino guarda in fondo di pietra tanta roba nell'ingresso del bosco e parte subito con quel drop su pietra che praticamente atterra lì secondo me vuol dire farsi un gap di 3 metricelli buoni poi si arriva qua si spara lì dritto praticamente è tutta dritta la linea il problema è che vai fortissimo e non puoi sbagliare al ritmo e andiamo a vedere cosa ci becchiamo la gira attorno a piedi va questa è la vera differenza tra un sentiero da enduro da cross country o da qualsiasi mtb o una vera pista da dh qui ad esempio si arriva su questo roccione piatto e bisogna hollare la in fondo altrimenti ci si schiaccia dentro quindi bisogna avere sempre la velocità giusta e non è facile non vi assicuro che non è facile camminare la pista e capire poi in termini pratici a che velocità arrivare e come saltare in là tosta o tosta qui ad esempio vi fa già capire la val di sole che differenzia rispetto a tante altre piste ci sono miliardi di linee subito subito siamo appena entrati nel bosco qui si può stare alti si può stare bassi dipende tanto da il vostro stile e la vostra confidenza noi siamo a piedi quindi andiamo bassi ma secondo me qualcuno passerà midway ad esempio si arriva qua e sono abbastanza sicuro che in questo piccolo in questi due metri di pista si schiaccia la bici si holla e si atterra là che voi dite ma è assurdo ci saranno cinque metri eppure è così iniziamo a arrivare nei punti secondo me più stratti del bosco lì sembrerà anche qua assurdo ma io dico che taglieranno tutto stretto e passeranno su questa radice perché tutte quelle piane lì quando salti e ci atterri dentro appunto nelle piane ti pianti dentro quindi si sta tutto alto per me e poi si gira giù a mille all'ora quant'è larga la pista o quant'è larga si fanno i mille si fanno prima impressione della pista avremmo camminato 500 metri più o meno prima impressione della pista è molto molto più moderna quindi secondo me con delle giuste telecamere su Red Bull TV vediamo qualcosa di assolutamente super spettacolare perché rimane naturale e ripida ma ci hanno portato della terra l'hanno lavorata la pista è più larga è più veloce ci sono più gap tutto più raga tutto più usciti dal bosco per la prima volta tiriamo un filo il fiato qui si arriva si schiaccia sul ponticello probabilmente daremo il primo colpo di pedale a parte lo start gate quindi la catena qui è il secondo pezzo dove la catena è importante dai attenzione ragazzi pista è molto difficile solo per esperti far expert only finita la piana ci si sono riposati ragazzi secondo me per 7-8 secondi e qui si ritorna sul ripido se non ricordo male ci sono un sacco di compressioni quindi si lavora tanto con le gambe oltre che con la bici là in fondo si vede l'arrivo un po' lontano qui è leggermente diverso nel senso che è un filo più artificiale non sono un grande fan di questi steps che ti piantano dentro voglio vedere come lo affronteranno gli atleti e là vedo un bel gappettino andiamo su quella roccia vieni 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 piccolo road gap niente di speciale però andiamo giù a farvi vedere sempre le dimensioni di questa roccia per capire come la parte semplice della pista sia comunque un gap altezza un po' più di aurelio che spiana giù assurdo comunque molto veloce qua questo tratto in realtà è leggermente diverso da quello che ho fatto io l'ultima volta perché c'è un sacco di artificiali un sacco di terra un po' di sponde anche qui secondo me è un filo il fiattore si riesce a tirare una serie appunto di sponde ben fatte si scaveranno un po' e bisogna sperare che non piova e niente si va nella sezione tecnica adesso di metapista che è quella che frantuma le braccia e le gambe perché fino a qua più o meno ci arrivano tutti dai sketchy questo pezzo non c'era l'ultima volta o che l'hanno fettucciato stretto però è tutto off camber ci sono dei roccioni bastardi passeranno tutti alti credo ma strana da vedere perché arrivi da una sezione larghissima bella questa immagine lo vedi? arrivi da una sezione super larga e poi si stringe un botto e l'unica cosa che vedi è che giù sembra più safe ma vai pianissimo quindi devi stare alto e poi non so cosa succede andiamo a vedere da persona normale direi pensavo peggio la verità è che vedremo come usciranno da questa sezione qua perché secondo me qualcuno azzarderà un'ollata che atterra in quel piccolo pezzo di landing prima di impiattare a meno che qualcuno usi perché qualcuno lo fa adesso qualche pilota moderno usi fare dei corti o fare delle impiattate per rallentare prima di un tratto vediamo vediamo lì che succede cioè è ridicola ma in senso buono cioè nel senso che arrivi e ci sono questi denti prima di ripidi veramente assurdi ed è asciutto raga è asciutto che cosa vedremo live su Red Bull TV assurdo penso che scendano di qua sì alto in mezzo a questa dust qualche robetta qua praticamente vedrete di quelle robe imbarazzanti se dovesse piovere cioè perché qua adesso voi spiegatemi come diavolaccio fate andare giù dritti è pretty cool perché c'è tutta una parte molto difficile off camber su quelle radici là qui si taglia e qui hanno lasciato aperto diverse linee avevo visto solo quelle esterne in realtà si passa stretti e si va in un canale che ci spara a mille nel tratto successivo dove vedremo una sgappata importante tra l'altro se riusciamo a ritrovare la stories instagram di Revelli ci piazziamo quella o il post ci piazziamo quella questo canalone bello tecnico che però è più o meno monolinea ci guida su questa piana che è molto molto importante perché come sapete o se non sapete ve lo dico io più siamo in pianura più è importante arrivarci con una velocità alta quindi i ragazzi e le ragazze molleranno tutti i freni apriranno i freni a manetta perché qua bisogna carrying speed tenere un sacco di velocità in questa piana perché rischi di perdere o guadagnare un sacco di tempo qua si arriva a questo gap che vi assicuro è molto pericoloso là sotto in maniera molto diversa cammina con me Simo perché la parte lì della piana l'hanno battuta e scipata molto bene quindi si arriverà qua a Mach 3 quindi a velocità supersonica si arriva lì e si holla fino in fondo adesso vi facciamo vedere quanto è grosso il gap sembra una cavolata a parte che l'hanno completamente cambiato e lavorato però da qua loro fanno l'ending là in fondo adesso ti lascio il microfono Simo e cammino anche qui ce la ghigniamo perché si arriva da questa piana il tratto finale se non me lo ricordo male è abbastanza tortuoso e subito parte il cattivo vediamo andiamo finalissimo a vedere se si riesce a saltar giù da quel tronco da quel ceppo tagliato che a volte lo si vede fare in coppa e poi aiuto e poi usano questo ceppo per saltare lì questa qui sarà un paletto di quelli da sci che vedremo spostare secondo me spesso io dico ai 6 verso la fine della pista ci sono due esse un po' strette con il salto principale lì Simo puoi vedere tutte quelle rocce lì che secondo me verranno sgappate tutti secondo me saltano dall'alto e atterrano nella prima parte di landing o magari fanno wheel tap con le ruote sull'ultima roccia e poi copiano il finale quindi entrano qua a mille hard on the brakes quindi forte sui freni si fa al finale le gambe sono spezzate fino a qua perché l'abbiamo camminata tutta si esce finalmente dal bosco è la parte più facile se c'è asciutto chiedete pure a 6.000 se è facile o difficile è la parte finale della pista salto val di sole molto famoso lì c'è un piccolo gap e poi qui c'è il salto finale dove sono tutti i metri quindi si può saltare un metro 5 metri 10 metri 20 metri 60 metri dopo un po' c'è la curve però secondo me la sponda è sempre la stessa mi sembra bella larga abbiamo visto negli anni tagliare la sponda qualcuno infatti appunto 6.000 nel lontano 2008 si sbriciolò proprio lì con un botto di vantaggio c'era ancora il tutini in Lycra tra parentesi solo 6.000 stava bene con Lycra forse Steve Beat perché faceva ridere ma gli altri lasciamo perdere salto finale della pista con poi il destra in realtà c'è il salto proprio finale finale prima delle tribune con la finish line domenica su Red Bull TV io e Toto ve la commentiamo live donne e uomini facciamo il tifo per italiani ma il tifo si fa per tutti si sono biondo e che cosa volevo dirvi che la pista è leggermente cambiata anzi sostanzialmente cambiata perché è più veloce è più moderna è più larga in tanti punti ha un ritmo leggermente diverso da prima c'è qualche punto dove respiri ma ci sono tanti gap uno dietro l'altro la parte finale mi sembra tutta sceipata ma comunque si scaverà col passaggio dei piloti la pioggia potrebbe renderlo molto interessante e molto difficile ripassami una latta perché non ce la faccio più noi vi aspettiamo sabato e domenica live su Red Bull TV non dimenticatevi di iscrivervi al canale YouTube però di Marco Aurelio Fontana Fontana Pro Rider e cliccate la campanella ciao raga grazie a tutti